di aiutare tante persone. Si chiama Bevi Responsabilmente, il patto tra operatori e istituzioni per contrastare l'abuso di alcol e tentare di porre fine al fenomeno della cosiddetta mala movida. Andrea Marini. La riapertura dei locali e la ripresa della vita notturna riporta l'attenzione sulle problematiche correlate alla cosiddetta mala movida, spesso questa derivante dall'abuso nel consumo di alcol. Limitazioni ci sono, come a Roma il divieto di bere in strada o del divieto di vendita di bevande alcoliche dopo le 22. Norme però troppo spesso eluse o da girate. Ora la federazione pubblici esercizi di cofcommercio ha varato il progetto Bevi Responsabilmente, un momento formativo e soprattutto informativo con il coinvolgimento dei titolari di locali e discoteche. Questi ragazzi sono un po' insofferenti, entrano e escono dal locale, vanno ad approvvigionarsi in strutture non autorizzate o addirittura con delle piccole scorte loro. Come facciamo a evitare questo? Impedendo di riuscire perché se escono devono rifare il biglietto. L'educazione al consumo responsabile è fondamentale ma a fronte dei tanti problemi legati alla guida i gestori dei locali chiedono soprattutto in città un allungamento degli orari dei mezzi pubblici. L'abuso delle sostanze alcoliche è strettamente legato ai reati di guida in stato di ebrezza e anche di incidenti stradali, ma non è solo questo. Ci sono una serie di reati, i cosiddetti alcol correlati, che sono determinati dall'aumento dell'aggressività. Abbiamo constatato che questo fenomeno non è esclusivamente dei giovani, anzi adesso c'è stato un incremento di questa tipologia di reati nelle fasce più adulte. Bisogna ritornare certamente a quella che è la sana e giusta educazione civica.